Venerdì 1 novembre, a tutti ben trovati, apriamo l'edizione di oggi con un resoconto della giornata che si è svolta ieri durante il Consiglio Municipale in piazza della Stazione Vecchia ad Ossea. Se ne è occupato per noi Federico Rossi. Un consiglio, diversi ordini del giorno, punti, condivisi e idee contrastanti. Ieri pomeriggio si è svolto il Consiglio del Decimo Municipio durante il quale sono state affrontate diverse proposte di deliberazione. Dopo circa due ore è arrivato il voto favorevole e unanime per il primo punto all'ordine del giorno, l'istituzione delle consulte. Stessa sorte per un tema caro a molti residenti del territorio, i presidi sanitari. I presidi sanitari sono a rischio di chiusura, la Commissione Scuola, la Commissione Servizi Sociali anche sul sollecito del Comitato di Quartiere Bagnoletto ha preso a cuore questa situazione perché pensiamo che garantire il diritto allo studio anche di quei ragazzi, quei bambini che sono in condizioni difficoltose è un diritto sancito alla Costituzione e è anche un dovere da parte di noi amministratori garantirlo.